Mentre in Liguria cresce il saldo di imprese giovanili tra nuove iscrizioni e cessazioni, in provincia d'Imperia questa realtà non sta registrando lo stesso impulso come nelle altre Liguri. È infatti un'analisi dai due volti, quella sugli ultimi dati regionali diffusi dall'Istat e divulgati da Union Camere relativi alle imprese giovanili in Liguria nel primo trimestre del 2015. In totale sono 943 i giovani che hanno deciso di aprire un'attività in proprio. In pratica su 3.000 aziende nate nella nostra regione una su tre è under 35. Secondo questi dati il primo trimestre 2015 si è chiuso con un incremento di 41 imprese sul saldo dello stesso periodo dello scorso anno. Nel panorama nazionale la Liguria si posiziona al quarto posto per il tasso di crescita delle imprese giovanili, 3,1%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto al primo trimestre 2014. Una vitalità che testimonia la voglia dei giovani di mettersi in proprio per contrastare il tasso di disoccupazione giovanile che in Italia è pari al 42,7% e che in Liguria sale al 45%. Dall'analisi settoriale si evince che i giovani Liguri scelgono di cimentarsi prevalentemente nel comparto edile seguito dal commercio e dalle attività turistiche. Per quel che riguarda i dati provinciali diffusi da Unione Camera e Liguria il tasso di natalità in provincia d'Imperia presenta però ancora margini di miglioramento attestandosi sul più 1,7% che risulta essere la percentuale più bassa di tutte le altre tre province della regione. Nell'estremo ponente Ligure sono attive 1.969 imprese giovanili pari al 6% sul totale provinciale che equivale ad un meno 4,6% sullo scorso anno, una percentuale anche in questo caso molto al di sotto delle altre province Liguri. La provincia d'Imperia si distingue infine in due aspetti relativi alle imprese giovanili femminili e a quelle straniere. L'incidenza nell'estremo ponente Ligure delle aziende rosa è del 24,6% con 484 unità, mentre nelle altre tre province raggiunge quote maggiori fino all'eccellenza di La Spezia con il 29%, così come nella media regionale che è pari al 25,7%. Discorso opposto invece per le imprese giovanili straniere, per le quali l'Imperia guida la classifica Ligure con 773 aziende, equivalenti al 39,3%. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.